carissimi ragazzi un salutissimo a tutti allora questo sarà un video in parte strutturato in parte blog perché finalmente mi sono decisa di installare windows 11 sul mio computer desktop ovvero sul mio computer fisso quindi dopo la sigla beh partirà questa sottoforma di blog video strutturato e volevo farlo assieme a voi quindi mi seguite in questa avventura e vedremo un po alla fine come come mai insomma dai rimasi dai tutto sommato è andato bene sul mio portatile perché non debba andar bene sul mio computer desktop che poi tra l'altro mi sono deciso perché perché finalmente film ora è stato reso disponibile anche il supporto per windows 11 15 vediamo subito dopo la sigla allora ragazzi eccomi qua beh non fateci caso al microfono perché l'ho utilizzato nell'altra videocamera per la scena iniziale quindi mi ritrovo qui davanti al mio computer ed ho già preparato l'hard disk con tutti i sistemi operativi infatti eccolo qua è questo qui è l'hard disk che vi ho portato nello scorso video con il sistema ventoi la dove potete caricare tutte le iso dei vostri sistemi operativi e far partire all'avvio quindi ragazzi beh quel video ve lo lascio nelle schede ve lo lascio anche alla fine di questo di questo video quindi insomma ragazzi allora mi sono munito di hard disk adesso vado a riavviare il computer e si parte con l'installazione del windows 11 allora ragazzi eccomi qua sono nella fase di boot del mio disco dove tengo tutti i sistemi operativi e adesso vado ad avviare l'hard disk esterno ed eccolo qua infatti è comparto già ventoi il sistema che vi ho portato nel video precedente allora vado a ristallare il windows 11 ovviamente solo 64 bit e vola adesso non resta altro che fa partire l'installazione e ragazzi finalmente ci siamo allora ragazzi beh qui come potete vedere il fatidico blocco tpm del secure bot del windows 11 adesso non mi resta altro che andare a sbloccare questa installazione del windows 11 intanto se volete sbloccare anche voi l'installazione del windows 11 qui potete sia alla fine di questo video sia qua in alto a destra nelle schede insomma da qualche parte troverete anche questo video ve lo allego in modo che anche voi possiate sbloccare l'installazione del windows 11 io adesso vado avanti quindi vado a chiudere l'installazione in questo modo e vado ad aggiungere le chiavi al registro di sistema in modo che possa andare avanti con l'installazione a chiudere l'installazione in questo modo e vado a chiudere le chiavi al a chiudere l'installazione in questo modo e vado a chiudere le chiavi al a chiudere l'installazione in questo modo e vado a chiudere le chiavi al ragazzi ed ecco qua come avete potuto vedere dalla clip precedente sono andato a sbloccare il secure bot e il tpm del windows 11 quindi adesso posso proseguire tranquillamente con l'installazione del windows 11 quindi ragazzi beh adesso non vedo l'ora che venga installato il tutto anche perché poi alla fine deve installare i driver lo devo configurare un po' di casino dai quindi ci vediamo tra un po' musica musica allora ragazzi sono arrivato alla fase iniziale della configurazione infatti ecco qua a da poco ho finito di installare il windows 11 devo dire che non ci ha messo neanche tanto tempo e ci ha impiegato attorno ai 7 minuti più o meno non l'ho cronometrato però mi sono passata in base all'ultima volta che ho guardato l'orario quindi ragazzi adesso vado avanti faccio la prima configurazione e poi dopo si parte con l'installazione di qualche software che mi serve tipo film ora nove ragazzi allora io adesso vado e magari vi lascio a qualche mia clip di configurazione a e voglio darvi un consiglio come vi ho detto nell'altro video quando fate la prima configurazione di un sistema operativo in questo caso windows 10 windows 11 fatela con una configurazione locale e non sincronizzare il vostro dispositivo altrimenti siete costretti a mettere per forza quella password e noi ci vediamo dopo ciao 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 allora ragazzi eccomi qua si cambia inquadratura adesso ovviamente io non posso utilizzare gli altri due display perché li devo andare a settare quindi adesso mi ci metto un attimino devo estendere due display e devo fare in modo che la schermata che vedete qui sul monitor alla mia destra deve diventare quella principale sullo schermo centrale quindi ragazzi vado un attimino a settare i tre monitor e poi ci vediamo nuovamente qui allora ragazzi come potete vedere qui da questo inquadratura sto installando driver booster quindi mi serve proprio per andare a scaricare tutti i driver compatibili per windows 11 perché altrimenti non riuscirei a trovare tutti i driver che servono per il corretto funzionamento del computer quindi adesso vado avanti faccio tutta la configurazione dei software e poi via al download di tutti i driver e poi via al download di tutti i driver quindi attendo un attimino che finisca è tutto qualche altro software di sistema che serve per il corretto funzionamento perché altrimenti senza i driver gli altri due monitor non possono funzionare scusate per la luce che è là in basso ma l'ho messa in assenza dei softbox in modo che possa avere un po' di illuminazione sulla scena anche se è un blog ok non pensare questo microfono perché non è collegato non sta registrando nulla ma lo tengo per qualche scena ma va bene così e non appena avrò finito farò questo riavvio oddio sto diritto un pochino storto ok farò il riavvio a computer e andrà a configurare i due monitor quindi ripeto questo qui deve restare centralmente come schermata principale quindi ragazzi ci vediamo tra un po' allora ragazzi appena finito di installare i driver infatti oggi ho fatto anche un riavvio con la speranza che funzionino correttamente tutti e tre i monitor allora intanto si già è in fase di riavvio è partito si da questo altro monitor come sempre l'avvio del computer e vediamo un po' tutti e tre tra un po' ragazzi poteva mai andare tutto bene qualcosa non ha funzionato come previsto ma vabbè questi sono errori che sono risolvibili poi in futuro per adesso faccio tutte le configurazioni e vado ad installare qualche altro software intanto abbiamo dei rumori di sottofondo quanto si diverte allora stavo dicendo tra un po' si avvia e vediamo come va allora ragazzi non so se riuscite a vedere da questi inquadratura ho fatto riavvio a computer e come potete vedere posso utilizzare i miei tre display come facevo prima su windows 10 quindi li ho estesi il display principale come display centrale come principale e gli altri due stessi una sinistra e l'altro a destra in modo da suddividermi il lavoro che andrò a fare allora adesso faccio l'installazione di qualche altro software tipo pacchetto office wondershare film ora 9 mi consente di editare video qualche altro piccolo programmino che mi servirà per utilizzare il mio computer desktop poi magari nella scena finale vi dirò cosa sono riuscito a installare allora ragazzi innanzitutto prima di installare i software che vi avevo detto prima nella clip precedente devo prima finire l'installazione degli aggiornamenti quindi adesso ho avviato la fase di aggiornamento quindi di tutti i dispositivi del sistema stesso e in modo che vengono apportate tutte le varie modifiche e poi dopo penserò all'installazione dei software allora ragazzi finalmente il windows 11 è terminata l'installazione ho fatto qualche altra piccola configurazione nel cui potete vedere già tutte le informazioni la scheda tecnica del computer alcuni cambiamenti alla grafica e devo dire che è andato veramente molto molto bene questa installazione ok ho installato già qualche software che mi serviva del tipo beh driver booster già lo conoscete che ne ho parlato prima sempre per i driver google chrome film ora 9 per editare video telegram e poi ho installato anche whatsapp quindi ragazzi devo dire che questa installazione sul mio computer desktop ci voleva del nuovo windows 11 beh che dire dai vi lascio qualche altra clip finale e poi ci vediamo beh alla fine di questo video allora ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video beh devo dire la verità era da un po che non vi portavo un blog diciamo che in parte è stato un video un po strutturato in parte è stato un blog perché volevo fare questa installazione del windows 11 sul mio desktop in vostra compagnia a parte qualche piccolo errore durante gli aggiornamenti ma del resto è andato veramente tutto alla grande quindi non vedevo l'ora di installare il windows 11 sul mio computer desktop ma non l'ho fatto fino ad ora perché ci stava film ora 9 che purtroppo non era compatibile con il sistema operativo perché lo stavo utilizzando sul mio computer e niente poi qualche giorno fa mi sono accorto che si avviava tranquillamente è stato reso compatibile l'ora installata infatti eccolo qua e adesso vado a editare il mio primo video con windows 11 beh che dire ragazzi dai io vi lascio a questo video intanto come sempre non aspetto altro di sapere la vostra qua in basso nei commenti quindi ditemi la vostra io intanto l'ho fatto quindi adesso tutti i miei computer in casa mia quello desktop portatile e portatile della mia compagna possiedono windows 11 dai non mi sono fatto scappare nulla insomma ditemi la vostra qua in basso nei commenti se vi sono mancati i blog insomma quello che volete e qualora questo video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su e ragazzi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale aiutatemi a crescere ancora di più dopo esservi iscritti attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto e oltre a questo ragazzi già lo sapete mi trovate anche su instagram ve lo ricorda l'animazione qua in basso e poi per quanto riguarda i video del windows 11 beh windows 11 bypass tpm secure bot beh ve li lascio qui da qualche parte magari qua nelle schede alla fine di questo video insomma ve li lascio qui da qualche parte noi ci vediamo sempre qui col mio prossimo video sul mio canale youtube ciao ciao